Per me oggi è molto bene perché siamo riusciti a finire giusti per la cioncia. Non è facile riuscire a fare questo. Credo che oggi abbiamo avuto anche un po' di fortuna perché proprio abbiamo preso il momento giusto. Ma io nelle previsioni di domani vengo da Piozza a poveriggio. Però visto che il direttore di gara è stato bravo oggi lascio decidere a lui. Sarebbe più bello riuscire a fare prima della Piozza, però non so se è possibile. Ma io credo, come detto Simone che mi dispiace ovviamente perché la gara era... più bella come è sempre stata gli altri anni anche per vedere i tempi che si realizzano. Però se è stato deciso così per la sicurezza sicuramente non cambia molto. Credo che lo stesso problema che c'era lì c'è anche poco prima. Però se chi deve vigilare su queste cose ha deciso così probabilmente avrà i suoi motivi per averlo fatto. Dì! Si, per esempio, che... Noi! Come. Ma quel tempo, chi vince. Chi vince che vediamo domani? Domani Martina si può andare subito, prima si può andare più veloce. Lei dice che se fosse un po' buon tempo, non è possibile? Non è possibile, non è possibile. Non è possibile, non è possibile. No, non è possibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.